Ok, ragazzi, dopo un'attenta decisione, anche perché me lo dite in 30.000, faremo la follia. Vediamo cosa succede. Ok, ok, sono venuto. E salviamo. Andiamo dall'esterino. Minchia, spero che riesco a salvarli, perché sennò, porca banca. Che minimo, o li salva entrambi, o muoiono entrambi. Muoiono in tentativo di salvarli entrambi, ma non lo so. Poi vediamo cosa succede, uccidendo solo Mike o solo Trevor. Vabbè, posso dire qui. Scusi! Cristo. Quindi questa è l'ultima missione, porca puttana però, Cristo santo. Questa dovrebbe essere l'ultima missione. Probabilmente la vedete assieme a... ...alle altre due. Dove dovrei uccidere solo Mike o solo Trevor. La metto assieme. Ma ok, questa non sia molto lunga, altrimenti non... ...la vedrete nel prossimo video! Ma vedete... ...giochiamo così. Prima persona. Magari me la cavo meglio. Magari no. Vediamo quanto resisto prima di sbattere. Un paio di secondi. Un paio di secondi. Farcatroi. Ah, sto pure con la catapecchia. Minchia, con tutti i soldi che abbiamo guadagnato dall'ultimo colpo. Ma compratene una casa più bella. La mia macchina è già fumante. Un paio di secondi. No, non lo so. Non lo so. No, non lo so. Ma vedo. Ma chi sono i ragazzi? Steve Haynes. Questo angrii ragazzi di FIB. Devin Weston, tu conosce la... Oh, l'angrii, rich ragazzi di quello che ho hibernate in. Exacto. Ok, ok. Io direi... ... 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 I got a lot of old friends I think need to be reeducated. A lot of friends? I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Hell yeah, let me see, there's uh... Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that triad motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he's bound to come back. Yup, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch, you wanna throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his blood loss. Whoa, hey! It's called a fucking loose end, alright? Now if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals Devin Weston and Steve Haynes. Fuck, what a mess, man! Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive! I thought someone might have your phone. Nah, nah, but look, I got you on speakerphone. Did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? I see you putting the ground wheels. Uh-huh. You, um, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ad. And, uh, Wei Ting. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Tang! Wei Tang! And Franklin's pal Stretch. Huh. Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Delpero Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! Woo! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right, all right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. I got him. Let's keep him clear of, uh, known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the Beach Club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Signor Chang. 5 km. All right. We made our plans. Let's stick to them. We take out our assigned targets. Any deviation will leave confusion and probably failure. We got one shot at this guys. All right, let's do this shit. Eh, oddio, voglio vedere anche gli altri però. Nel senso, voglio uccidere anche gli altri bersagli contro Evole e Michael. Spero di poterlo fare. Andiamo a uccidere il signor Chang. Mangerà il suo ultimo... In voltino primavera. Ricorderà il suo ultimo porno pixelato. Che due coglioni. Che due coglioni. Dove devo girare? Qui. Che arriveremo, ragazzi. Godiamoci gli ultimi momenti di GTA. Mettiamocela ad impennare. Dovemmo essere più trasgressivi. Non ci riesco! E' in penna, dai! E molto più. guardi occhiando lei l'omani uccidiamo il cinesino poi passiamo guada fanculo sono un crepo passiamo a trevor dio santo almeno dai con la macchina perché c'è il punto rosso almeno con la macchina no non succede ma si è stronzata la distruggo si ma non crepo non riesco di crepare ok l'arma è pronta spara le ruote si è attenta di scappare ma che armava ma fa cagare ma scusa mitragliatrice con 16 colpi ma che diavolo è una uzzia almeno dovrebbe essere 32 ok qui adesso entro nel locale lo ammazzo no no Vado da Trevor Dimmi che ti sei almeno avvicinato al bersama Minchia là dietro di me Oh si è avvicinato Fin troppo Praticamente è arrivato C'è Haynes I'm moving on Haynes Les, see if you can patch me into his radio mic I want a last reminder of what an annoying prick he is Los Santos A city of saints A city of sinners And nothing in between but the FIB Cut This is crap Who writes this bullshit anyway Okay, all right You got this framed right? Yeah, you're looking great Is it chin? How's the chin? Oh, sharp All right, the audio's clean Nice, well, say something Check, check, check Yeah, it's great Okay, fine, we're on I'm ready You ready? Speed All right, let's do this people I'm a professional, let's go Oh, pulizia Aspetta un second Mi sa che lo sparo da lontano col fucile di precisione What did you do? Christo Is a land of dreams Is a land of dreams God 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 God, that's a cliche, man What is Christo? Make sure Roll it Non l'ho preso Non l'ho preso Cioè Ciao strozzo Ucciso anche il cameraman Ma fa nulla Era un venduto il cameraman Ciao strozzi Ma è stato Mica ho mancato L'unico tiro che potevo farlo Ho mancato Dai 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 Se vabbè Fottiti Ho uno sputo di vita estremamente Merda sbiere 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 giro di qui Cazzo No 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 Si dai dai che ce la fai Cazzona si Oh no 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 svob Tocca a Michael e poi un altro Certo, certamente no? Certo, sono ragazzi Ho un messaggio dai vostri amici, Lamar e Franklin Ciao stronzoni E' stato divertente Elimina e balla poi Grande, grandissimo Cazzo ne ho uno dietro Prossimo chi è? Il mio amico, Stretch? Il n'y'a un problema no more, Frank Si, non è il mio amico C'era un uomo che c'era un uomo C'era un uomo che c'era un uomo Grazie C'è chi abbiamo? Mi prendo a Devin Weston So che potremmo divertire con lui Ora non preoccupi Non ci stiamo iniziando Sì, non siamo tutti insieme Non proprio, almeno Casa di Devin Non ci stiamo iniziando Non ci stiamo iniziando Èario? Penso che si aveva preso la porta Continuo a fare il giro come stavo facendo Però rimango al piano di sopra mi sa Quanto è il giro che ti ha pagato? Guardate i tuoi occhi! Non lascia i tuoi di D.W. E mi sono freddo di matare, figlio! Cosa di D.W. Cosa di D.W. Cosa di D.W. Ma cosa vuoi dire che la nostra operazione è morta? Aspettate, aspettate, ascoltate! Non più parlare! Mi piace questa missione, abbiamo proprio paleggiato i conti! E' un'altra missione! Lasciamli fuori dalla città e farli disperare! Vi metti sulle cliff offi del G.O.H. Chilliad Mountain State Wilderness! Oh Dio! Dobbiamo arrivare li per farlo sparire, a meno che non lo faccio sparire io perchè A forza di sbattere una parte all'altra finisce che distrugge la macchina Oh! 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 Minchia... finisce che è rotolo per le culline! E' un ragazzo che si tratta di passare i conti! Nevoi qualcuno con te nella mia organizzazione! La posizione CEO sarà vacata in breve, Slick! Ho niente a te a parte degli problemi ovviamente! Michael ha 3 problemi, quindi Michael ha avuto andare! You're looking at it rationally! There are people who are useful to you and people who ain't! And the people who ain't gotta go! Me? I'm not rational! I don't care if you're useful or not! I feel like taking you out, Devo! So that's what I'm doing! This is a serious offer! Work for me, you'll have everything you'll ever wanted! All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled! Yes! Yes! That's the kind of creativity I need on my team! Come on! Come on! Let me get out of here! Look! I got my own company! Trevor Phillips Industries! Oh yeah! A fellow entrepreneur! Let me buy a stake! Give you money to grow! I don't know if you heard, but I'm kinda gold rich right now, so you got precisely nothing to offer! Prepare for the end, my friend! I'm gonna get you! You're a dead man! This is why people want to kill you! You won't shut up! Non si no! Prima ci ha dato delle... Ci ha offerto... Cose, soldi, di tutto! Poi ci minaccia! Povero Stold! Minchia! Ci ha mancato poco! Ecco... No, ma... No! Mi amico non saranno felici se abbracci un clip in il tronco! Oh, quasi arrivati... You don't want me, it's an enemy! Pipe down! Hey! Huh. No! 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 單ormi Che ovviamente gli matti farò subito è il 31 o il 30 gennaio ma credo, sia il trenta gennaio no anzi il 31 meme lo ricordo il 30 31 esce Dynelight che farò ugualmente anche quella appen usciuto senza la webcam entrambi ok? non chiedatemelo 300 mila volte ragazzi miei ci vediamo alla prossima serie ciao a tutti